ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico ci troviamo al parco canile empa di monza siamo con stefania e con la piccola morgain che mi sta circondando con il guinzaglio esatto qual è la sua storia come è arrivata in canile a monza allora lei innanzitutto è un crocio lupoide bellissima davvero di circa quattro mesi quindi sappiamo che da adulta sicuramente crescerà esatto diventerà una bella taglia media insomma lei è frutto di collaborazione con un'altra empa che è l'empa di gioia tauro con cui noi spesso collaboriamo quindi è appena arrivata da noi e siamo partiti subito un pochino lavorare con lei perché aveva era poco abituata al guinzaglio la pettorina e quant'altro poi ovviamente le nostre città sono sono belle impegnative insomma per un cucciolo che che è poco abituato a tante persone tante macchine e quindi niente adesso già camminano autonomia fuori dalla dal canile mantiene un attimino ancora il suo carattere un po' un po' timido timoroso un po' timorosa la vediamo non tanto nei confronti delle persone in realtà ma quanto proprio della dell'ambiente esterno che non conosce o degli altri cani nel senso che lei poi è socievole con tutti è una volta che ha conosciuto un altro cane poi gioca si rifà molto all'altro cane però deve abituarsi sì 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 se no è un po' schiacciatina che non sa bene cosa fare ancora però beh questo oltre che la timidezza è dato anche dalla giovane età insomma ha bisogno sicuramente di fare esperienza quindi con gli altri cani comunque basta prendere confidenza non ci sarebbero problemi in caso di adozione da parte di una famiglia che ha altri animali no anzi diciamo che magari il fatto di avere un cane adulto ovviamente magari non troppo irruento che possa farla spaventare o altro ma che possa fargli di buona guida sicuramente sarebbe una cosa buona insomma quindi qual è la famiglia ideale per morgane allora sicuramente sarebbe meglio magari qualcuno che ha già esperienza con con cani un po' timidi perché già non è semplice la vita con un cucciolo inizialmente perché ci sono tante cose a cui star dietro men che meno insomma con una cagnolina che magari è un po' timide quindi va gestita bene il top sarebbe una famiglia che magari fosse già disponibile dall'inizio a far seguire la cagnolina magari un percorso anche con un educatore perché non deve rimanere spaventata per tutta la vita deve conoscere il mondo deve conoscere il mondo correttamente esatto non escludiamo la presenza di bambini o ragazzini ovviamente ben educati nel confronto dei cani e anche di altri animali in realtà sia cani che gatti e lei è un pochino spaventatina anche dai gatti però sicuramente al momento non sembra un cane predatorio insomma dunque può essere già adottata? assolutamente sì noi nel mentre fino a che andrà a casa continueremo i nostri lavori per prepararla al meglio all'adozione però sì dunque Morgana è pronta per trovare una nuova famiglia per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco Canile Empa di Monza al numero 039 835 623 oppure inviare un'email a canile at empa monza punto it grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti